Quindi vediamo l'oroscopo del 2023 sull'amore, sulla fortuna e sui soldi, segno per segno. Bene, allora cerchiamo di capire, questo 2023 ti porterà fortuna in funzione del segno, ma per quanto riguarda la fortuna, anche il lavoro, la carriera, i soldi. Quindi cerchiamo di capire segno per segno come andranno le cose, anche quale sarà il segno con il quale potrai interagire meglio. Allora, nel frattempo ti ricordo di iscriverti al canale, ovviamente attivare la campanella, seguimi su tutti i canali YouTube, che sono dieci ormai, ma anche su Instagram, Massimo Trammasco Ufficiale, anche su TikTok e su tutti i canali. E inizia a fare donazioni al canale, se ti va. Non fare la solita morta di fame, fai donazioni al canale. E partiamo, partiamo, vediamo l'ariete. Che cosa ci... qual è l'oroscopo del 2023 per l'ariete? Partiamo un attimino anche in generale, vediamo poi l'amore, insomma. Vediamo quali sono un po' le caratteristiche. Intanto l'ariete, possiamo dire alcune caratteristiche, è un segno zodiacale testardo, cociuto. Infatti l'ariete è quello che dà le cragnate, no? Non si ferma davanti a niente. È un segno che è anche spirito di iniziativa, se vogliamo. E' molto istintivo, cioè nel bene e nel male fa le cose giuste, fa le cose sbagliate. Cerca di vincere gli ostacoli. A volte fa grandi cazzate, comunque, il seno dell'ariete. Il seno di fuoco tende a dominare, vuole anche sottomettere, ma talvolta viene anche sottomesso. E quindi ci sono tutta una serie di caratteristiche dell'ariete che lo spingono, diciamo, a fare grandi puttanate nella sua vita, ma anche grandi azioni, come tutti i segni di fuoco. In amore, come diceva, salite immense e cadute, c'era quella canzone, no? C'era quella canzone di, come si chiama, c'era una canzone interessante che diceva salite immense e poi cadute rovinose. Insomma, l'ariete fa un po' questo, no? In amore ha delle impennate vertiginose, delle cadute rovinose, fondamentalmente. E, diciamo, predilige l'avventura. L'ariete, anche una donna della riete, se, anche una donna della riete, se si sta, diciamo, come possiamo dire, anche una donna della riete, se si sta, si innamora di qualcuno, se si innamora di qualcuno, vuole assolutamente farselo, vuole assolutamente trombarselo. Quindi, uomini, se volete farvi qualcuno della riete, se riuscite a stimolargli, diciamo così, un po' il suo, l'attrazione, ve la darà all'istante. Quindi, questo è un po' il modo di fare della riete. Vediamo quale sarà il 2021. Allora, le opportunità, per quanto riguarda i soldi, la carriera, diciamo, la carriera, il lavoro, soprattutto, ci saranno, dalla metà dell'anno in poi, ci sarà Saturno e Giove che aumentano i livelli di energia e quindi, da un punto di vista della, diciamo, del lavoro, della carriera, ci saranno grandi opportunità. Per quanto riguarda i soldi, per quanto riguarda le opportunità di guadagno, diciamo che la riete ha un grosso difetto, che si sputtana tutti i soldi, si sputtana tutti i soldi, se li sputtana proprio, e quindi cerca di mantenere le tue finanze tranquille, perché sennò andrai dal culo, è quest'anno. Quest'anno, se inizi a spendere come sei abituata, tendi ad andare dal culo. Ci saranno, cerca di spendere i soldi, magari in viaggi, in qualcosa, però poi cerca anche di risparmiare fondamentalmente, altrimenti te ne vai dal culo. Poi abbiamo, diciamo, l'amore, l'amore. Venere segnala per la riete molte opportunità nel 2023, specialmente da gennaio in poi ci saranno grandi opportunità, quindi mi raccomando, le opportunità ci sono e quindi cerca di coglierle. L'unica cautela che devi prenderti è, diciamo, che devi prendere in considerazione è evitare relazioni con persone impegnate, con persone sposate, anche perché la riete tende ad avere relazioni dominanti fondamentalmente, una tendenza al dominio. Per cui, se ti innamori di uno sposato o di una sposata, te lo pigli in quel posto poi fondamentalmente, perché, diciamo, ci saranno grandi sofferenze, anche perché andrai a scontrarti con situazioni che non saprai gestire. L'ariete, innamorato di un uomo sposato, di una donna sposata, deve smorzare la propria natura dominante perché sa che ci sono altre persone, cioè l'altra persona che è prevalente rispetto a lei e quindi il dolore sarà forte fondamentalmente. Diciamo che è anche probabile che a causa dell'influenza di Saturno potresti innamorarti di qualcuno che attualmente vedi come una persona amica, che attualmente vedi come una persona amica e quindi potrebbe essere interessante. Il 2023 potrebbe portare a qualche riete che, diciamo, anelava tanto al matrimonio, finalmente ad arrivare a questo famoso famigerato matrimonio che poi in realtà, diciamo, non è che ti porterà poi nulla di buono, ma probabilmente il matrimonio potrebbe essere qualcosa di interessante, ci potrebbe essere qualcosa di interessante per te. L'anno 2023, diciamo, potrebbe anche portare ad alcune situazioni la fine del matrimonio. Quindi ci sono situazioni che sono veramente altalenanti per quanto riguarda il seno dell'ariete. Bene, questo è un po' il quadro generale. Diciamo che, tornando un attimino ai soldi, all'inizio dell'anno ci sono possibilità di recuperare il denaro, però il problema è che tenderai a sputtanartelo, quindi cerca di evitare di sputtanartelo. Evitare di sputtanartelo. Anche perché possibilità poi di miglioramenti professionali nella seconda metà dell'anno ci sono. Quindi i mesi propizi, ad esempio, per chi vuole invece fare l'imprenditore per aprire un'impresa sono gennaio e poi novembre. Gennaio e novembre sono i mesi in cui, se vuoi portare avanti delle iniziative, sono maggiormente propizi. Insomma, fondamentalmente questo è per quanto riguarda l'ariete. Vediamo qualcosa anche sulle affinità di coppia. Allora, nel 2023, ariete con ariete diciamo che funziona bene, dando una percentuale intorno al 70%. Ariete e toro nel 2023 andranno molto bene, affinità di coppia dell'80%, poi c'è un ariete gemelli un 40%, ariete cancro un 50%. Teniamo presente che poi ci sarà l'ariete leone un 20%, non va molto perché sono due segni che si scontrano, ariete vergine il 50%, ariete bilancia funziona molto bene il 90%, ariete scorpione il 65% circa, ariete sagittario un 60%, ariete capricorno non va tanto bene, comunque sono sul 50%, ariete pesci 83%, funziona molto bene, scusate, ariete acquario 83%, ariete pesci il 40%. Ecco, queste sono un po' le combinazioni, insomma, tenendo presente che quelli sotto il 50% tendono ad andare dal culo molto rapidamente, fondamentalmente. Bene, bene, veniamo al seno del toro. Allora, il seno del toro è un seno di terra, è caratterizzato dalla fisicità, ha uno spirito pratico, è un segno risparmiatore, è ostinato, ha il fiuto per gli affari, è tendenzialmente possessivo, ha il seno del toro, chiede tranquillità in amore, ma offre anche tranquillità in amore, e quindi ha un po' queste caratteristiche, ti piace il benessere, sia fisico, sia mentale, diciamo che nel lavoro rifiuti i ruoli di grande responsabilità, sei, non dico un catramista il toro, ma insomma è uno che, la donna è dedita alla famiglia, rompe i coglioni al massimo perché è possessiva, gelosa, e ama il suo detto, chi fa da sé fa per tre, perché vuole fare le cose, insomma. Vediamo un attimino, allora, questi pianeti, le stelle, per il 2023, prevedono la congiunzione tra Saturno e Giove, che giocherà un ruolo importante nel 2023, per quanto riguarda il toro, e diciamo porterà abbondanza, il 2023 non è male, porterà abbondanza in diversi aspetti della vita, come l'amore, la carriera, i soldi, soprattutto nel primo trimestre dell'anno, quindi anche da un punto di vista delle relazioni, non andranno male. Per quanto riguarda proprio l'amore di per sé, il toro, diciamo, il pianeta dominante del toro è Venere, e quindi è il portabandiere dell'amore, quindi per il 2023 l'amore sarà positivo, diciamo, è influenzato sicuramente dalla positività anche di Mercurio, Giove, e porterà effetti benefici su chi è già accoppiato, su chi è già sposato. Per le coppie sposate sarà l'occasione di consolidare la relazione, e invece, anche per quelli che non vedono l'ora di sposarsi, soprattutto le donne del toro rompono il cazzo da questo punto di vista perché vogliono sposarsi, diciamo che ci saranno possibilità, offerte vantaggiose, diciamo, e quindi inoltre c'è anche l'influenza del sole che fa sì che le persone single potranno trovare, diciamo, situazioni interessanti. Quindi se sei ancora single, però, caro amico del toro, abbassa un po' le aspettative, caro amico del toro, perché se tu vuoi continuare ad avere, come dire, a cercare il non plus ultra, se vuoi continuare a cercare il top, il top dei top, non dico che devi accontentarti del catramista a cassa integrato senza fissa dimora, o della sciampista, diciamo, disoccupata, però cerca di abbassare un po', cerca di abbassare un pochettino le tue aspettative, portale in una zona normale. Allora, se riesci a portare le tue aspettative in una zona normale, puoi trovare, potrai smettere finalmente di essere single e trovare una persona con la quale andare avanti, creare una relazione solida. certo è che se continuerai a tenere l'asticella troppo alta, per quanto riguarda il toro, te la piglierai in quel posto, perché, come dire, le difficoltà ci saranno, insomma. Quindi, per quanto riguarda il lavoro, anche lì, se vai alla ricerca di lusso, di denaro, avrai dei miglioramenti di carriera, ma non saranno così, diciamo, eclatanti da far sì che tu possa sfondare, diciamo così. Quindi, il tuo pianeta dominante è il pianeta Venere, quindi è un lato creativo che devi esplorare e utilizzare nel 2023. Cerchi di utilizzare la creatività e potresti farcela e quindi ci sono delle possibilità, quindi anche di ottenere, diciamo, dei benefici da un punto di vista economico. Potrai portare a sviluppare alcuni, diciamo, migliorerai le tue finanze, ecco, diciamo questo, facendo le cose fatte nel verso giusto, le tue finanze potranno migliorare, poi però devi accontentarti che non sarà il salto quantico, insomma. Dopo aprile il periodo finanziario, diciamo, potrebbe avere qualche inclinazione dovuta a spese impreviste, diciamo. Vediamo un attimino anche per il toro all'affinità, toro con ariete 50%, toro con toro siamo su 70%, toro gemelli intorno al 40%, toro cancro intorno al 32%, quindi va dal culo, toro leone 50%, toro vergine funziona molto bene 70%, toro bilancia 95%, quindi sono fatti l'uno per l'altro, quest'anno toro scorpione 60%, toro sagittario va anche bene 93%, toro capricorno 45%, quindi una via di mezzo un po' scarso, toro acquario 56% e toro pesci 90%, quindi anche toro pesci va bene. Bene, bene, e passiamo, passiamo ai gemelli, vediamo i gemelli, i gemelli sono un segno d'aria, i gemelli sono caratterizzati dalla comunicazione, un segno eclettico, è un segno un po' come dire altalenante, umorale, cambia umore, i legami troppo stretti non gli piacciono, come sarà l'oroscopo dei gemelli nel 2023? Diciamo che nel 2023 avrai la possibilità di toglierti di mezzo tanti rompicoglioni, tanti rompicoglioni, devi avere la forza di toglierti dei maroni, avrai l'opportunità di toglierti situazioni anche che non ti vanno bene, quindi ci saranno possibilità, quindi levatele dai coglioni perché è la cosa migliore. Diciamo che potrebbe essere anche un anno di introspezione, venere e marte comunque sono dalla tua parte e quindi venere e marte ti diciamo daranno la possibilità di portare a termine, ti supporteranno per tutto il 2023, quindi per quanto riguarda i gemelli diciamo che per quanto riguarda l'amore i primi tre mesi del 2023 saranno veramente fantastici nel settore dell'amore, delle relazioni, ti sentirai sollevato diciamo da tutti i problemi, da tutte le sofferenze finanziarie, diciamo in amore ci potrebbero essere poi qualche incomprensione dovuto insomma all'insorgere di Plutone che può rompere il Marone diciamo così però le cose non vanno male Giove sosterà anche le donne che ricercano il matrimonio, le donne single che ricercano il matrimonio, le femmine dei gemelli che cercano di concupire qualcuno che cercano di buttarglielo in quel posto diciamo a qualcuno avranno possibilità e tra l'altro anche quelle che cercano la maternità e potrete incastrare qualche maschio e farvi ingravidare quindi ci sono buone possibilità per le donne gemelli di farsi ingravidare nel 2023 le coppie dei gemelli che si sono appena formate diciamo che avranno un buon 2023 anche se magari ci saranno problemi con i suoceri le suocere rotture di coglioni quindi diciamo che Giove è il filo conduttore del tuo matrimonio nel 2023 devi stare attenta però alle rotture di cazzo con diciamo i suoceri queste cose qua no diciamo che le cose però non vanno non vanno male per quanto riguarda dei soldi il 2023 è molto incentrato sull'introspezione quindi cerca di diciamo ci sono i transiti planetari a tuo favore per quanto riguarda i soldi però diciamo ci potrebbero essere alti e bassi quindi qualche cazzata qualche cazzata rischi di farla fondamentalmente per quanto riguarda i soldi diciamo che per quanto riguarda i guadagni a lungo termine hai possibilità di fare degli investimenti che ti possono portare dei profitti devi stare attento a diciamo a non lasciarti trascinare eccessivamente da situazioni positive e neanche demoralizzate la tua vita professionale diciamo ci sarà qualche piccola incrinatura qualcuno che resterà senza lavoro ma in linea di principio diciamo che l'ultimo trimestre dell'anno sarà favorevole e gli altri invece ci potrebbe essere qualche avvertimento diciamo dal pianeta Marte che potrebbe rompere il cazzo un po' diciamo questo che anche la tua vita sociale comunque migliorerà perché ci saranno dei nuovi amici che entreranno quindi in generale avrai una vita sociale che migliorerà un pochettino quindi le cose da questo punto di vista non vanno male vediamo un po' l'affinità di coppia per i gemelli gemelli ariete 60% gemelli toro 70% gemelli gemelli 87% quindi va bene gemelli cancro 60% gemelli leone 85% quindi trovati un leone caro gemelli gemelli vergine siamo sul 60% gemelli bilancia 70% non va male gemelli scorpione 30% quindi gemelli scorpione è proprio una cagata assurda gemelli sagittario 90% va molto bene gemelli capricorno 50% quindi lichelacche gemelli acquario 90% va molto bene gemelli pesci 32% quindi va dal cazzo e veniamo al segno del cancro allora il segno del cancro è un segno d'acqua è un segno lunatico un segno doppio nel segno del cancro vivono due anime una stabile dedita alla famiglia l'altra che ama anche i viaggi insomma quindi comunque è un segno vivace sensibile ingoia tanti rospi ingoia tanti rospi e ogni tanto li risputa fuori diciamo questo che ha un po' queste caratteristiche per quanto riguarda il seno del cancro il 2023 è un anno che ti può portare il successo comunque caro se non del cancro potrebbe sembrare inizialmente che le cose non vanno ma poi alla fine il 2023 è un anno che ti può portare il successo ci possono essere dei risultati contrastanti in alcune situazioni in altre situazioni le cose andranno meglio però diciamo che il transito dei pianeti è totalmente favorevole diciamo che per quanto riguarda il pianeta Plutone transiterà nel segno dei pesci quindi potresti avere alcune difficoltà a costruire dei legami solidi però diciamo il pianeta Urano invece ti supporterà invece proprio nella costruzione dei legami quindi allora il primissimo trimestre diciamo per alcune persone del cancro ci sarà attendete bene soprattutto le malgascione non dico una proposta di matrimonio perché se siete talmente vecchie che oramai non vi sposo più nessuno però una proposta di relazione sentimentale stabile di relazione sentimentale seria invece per le donne più giovani ci potrebbe essere una proposta di matrimonio nel primo trimestre del 2023 i mesi successivi diciamo da un punto di vista sentimentale le cose staranno sempre un po' in un senso e nell'altro per quanto riguarda invece i soldi il lavoro diciamo che per quanto riguarda il lavoro la seconda metà dell'anno sarà comunque a tuo favore perché ci saranno i pianeti sole il sole e urano che agiranno insieme quindi potranno portarti dei benefici per le persone sposate invece del cancro la cosa andrà bene il matrimonio andrà a gonfie vele sarà fantastico nel 2023 chi invece sta in una situazione di merda vive un matrimonio tossico è giunto il momento di levartelo dai coglioni perché il 2023 ti darà proprio la possibilità di toglierti dai coglioni i matrimoni tossici diciamo che per quanto riguarda le finanze ci sono possibilità diciamo alcune spese potrebbero esserci intorno al terzo trimestre del 2023 spese impreviste spese inutili e quindi evita di fare shopping sfrenati evita di sputtanarti i soldi però diciamo cerca di sfruttare gli introiti che avverranno soprattutto nella prima parte del 2023 se non ti sputtani tutti i soldi in puttanate diciamo avrai grandi possibilità comunque ovviamente i gemelli il segno diciamo il cancro avrà comunque delle benedizioni diciamo così per il 2023 quindi ci saranno buone possibilità vediamo un attimino anche le affinità di coppia cancro ariete siamo sul 70% quindi non va male cancro toro 62% cancro gemelli 65% cancro cancro 70% cancro leone andate bene assieme cioè di merda perché è il 20% cancro vergine 60% cancro bilancia 70% cancro scorpione siamo sull'85% cancro sagittario 80% cancro capricorno 70% cancro acquario 48% va alla cazzo e cancro e pesci invece siamo sul 93% quindi buonissima affinità di coppia per il segno del cancro e dei pesci vediamo leone allora leone è un segno egocentrico un segno un po' narcisista e caratterizzato dall'eccesso è sicuramente uno spirito orgoglioso qualche volta tende a diventare despota tende a ad avere dei delle cose il leone a leone piacciono i soldi però di solito non riesce a farli gli piacerebbe spenderli ma non riesce a farli cioè gli piacciono i soldi non per avidità ma per diciamo apparire e quindi la tua impulsività però spesso ti porta a fare delle cazzate diciamo soprattutto da un punto di vista finanziario è un segno geloso è un segno che da quel punto di vista lì dal punto di vista delle relazioni rompe il cazzo vediamo dovrebbe seguire questo detto il seno del leone chi 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 ben inizia a metà dell'opera quindi caro leone il 2023 prevede inizi caotici e quindi devi pensare che nel 2023 devi puntare sui primi mesi perché i primi mesi se tu ti lascia andare saranno uno tsunami saranno un disastro saranno pervasivi quindi devi iniziare a puntare bene sui primi mesi se riesci a puntare bene sui primi mesi diciamo a metà anno per quanto riguarda soprattutto la carriera i soldi potrai non dico tirare il rem in barca però essere abbastanza tranquillo se invece i primi tre mesi ti lascerai prendere dagli eventi ti lascerai diciamo trascinare dagli eventi sarà un 2023 di merda da un punto di vista economico finanziario l'oroscopo dell'amore il 2023 diciamo che è positivo per quanto riguarda il Signore Leone l'amore e le relazioni sono un'area che risplenderà diciamo nel 2023 molto di più rispetto ai soldi i soldi ripeto se te la gestisci bene i primi mesi altrimenti sarà veramente una debuggle una waterloo un disastro totale finirai povera in canna povera in canna mentre l'amore invece avrà delle possibilità ci sarà una buona influenza di venere tutto l'anno e diciamo ci saranno diciamo che il 2023 è particolarmente buono per i leoni che vogliono sistemarsi che vogliono trovare delle situazioni importanti nella loro vita ci saranno opportunità di abbondanza per quanto riguarda l'amore alcuni ostacoli sempre potrebbero essere previsti a causa di Saturno all'inizio del 2023 quindi il 2023 iniziale per il leone diciamo che per le finanze è ancora più critico per l'amore un pochino però poi insomma per i single ci sarà la possibilità di trovare l'amore nel 2023 anche se probabilmente non sarà una relazione diciamo così top devi abbassare anche un po' l'asticella diciamo non dico anche qua di accontentarti del catramista cassi integrato senza fissa di morde alla sciampista però abbassare un po' l'asticella è perché puntare troppo in alto come dire chi troppo vuole si dice poi nulla stringe bene quindi questo è un po' per quanto riguarda diciamo che per quanto riguarda invece le coppie sposate ci sarà una buona energia di transizione di venere per cui possono anche legare magari di più con la famiglia con i suoceri con situazioni di questo genere e insomma può andare bene diciamo così allora vediamo un attimino anche per il leone quindi l'attenzione soprattutto sulle finanze perché potrebbero esserci delle debagle per quanto riguarda le affinità vediamo un attimino le affinità leone leone ariete sono sempre sul 70% può andare anche bene leone toro siamo sull'80% quindi va bene leone gemelli anche qua andate bene con gemelli al 58% sempre superiore leone cancro di merda al 30% leone leone siamo sul 50% anche perché insomma talvolta leone vergine siamo sul 40% leone bilancio siamo sul 95% quindi va benissimo leone e scorpione leone e scorpione siamo diciamo leone e scorpione siamo sul 50% quindi una via di mezzo leone e sagittario invece siamo sul 75% leone e capricorno siamo sul 25% quindi di merda leone e acquario 80% e leone e pesci siamo sul 50% bene e adesso passiamo passiamo alla vergine il seno della vergine allora il seno della vergine quali sono le caratteristiche allora il seno della vergine intanto è un seno di terra è caratterizzato dalla precisione pratica prudente è un animale a sangue freddo diciamo portata per lo studio è un segno opacato un punto di riferimento diciamo che è un segno ordinato pulito pignolo eccessivamente probabilmente realista radicale insomma predilige la pignoleria fondamentalmente è un po' gelosa nei rapporti di coppia le madri della vergine sono apprensive anche se hanno un figlio che oramai che ne so ha 20 anni 30 anni quello che è rompono il cazzo quindi madre della vergine smettete di rompere il cazzo i vostri figli il 2023 sarà un anno pieno di possibilità pieno di possibilità sarà un buon anno sotto diversi punti di vista la forte presenza di giove nel seno della vergine porterà buone possibilità di successo professionale anche sentimentale affettivo e le relazioni amorose tenderanno a consolidarsi per il single tenderanno a svilupparsi il transito di urano ti dà però qualche suggerimento qualche cosa di mantenere diciamo prestare attenzione alcune questioni finanziarie improvvise che potrebbero manifestarsi però diciamo che le opportunità lavorative di carriera sono comunque estremamente positive l'amore troverà la strada per te quest'anno che non avresti mai neanche immaginato quindi la forte presenza di venere creerà una connessione profonda e permetterà diciamo ai single comunque di trovare una relazione anche solida anche stabile e quindi soprattutto dopo il mese di agosto ci saranno consolidamenti molto forti se cerchi invece di chiudere una relazione devi farlo in modo graduale per elevarti dai coglioni insomma le situazioni che altrimenti potrebbero portarti problemi per quanto riguarda le questioni finanziarie fare un po' attenzione all'inizio dell'anno perché ci potrebbero essere qualche situazione un po' cupa un po' nascosta le spese potrebbero essere abbondanti soprattutto all'inizio dell'anno e quindi attenzione attenzione poi invece nella seconda parte dell'anno le cose andranno decisamente meglio per quanto riguarda la carriera come dicevo va a gonfie vele e vediamo anche le affinità vergine ariete siamo sul 50% vergine toro sul 70% vergine gemelli 40% vergine cancro siamo sul 70% vergine leone siamo sul 30% di merda vergine vergine siamo sull'80% vergine e scorpione vergine bilancio 60% vergine scorpione 80% quindi va anche abbastanza bene vergine sagittario 60% vergine capricorno 92% molto bene vergine acquario 60% vergine pesce 80% quindi va abbastanza bene cioè va molto bene vediamo il segno della bilancia vediamo il segno della bilancia e allora la bilancia è un segno d'aria è un segno caratterizzato dall'intuizione da uno spirito estetico uno spirito di indipendenza un segno comunicativo si adatta alle situazioni e sono segni diciamo un po' superficiali guardano di più le situazioni diciamo più estetiche se vogliamo da un certo punto di vista quindi possono lasciare trapelare altre situazioni però allora giove diciamo transiterà nel segno della riete quindi darà la possibilità di costruire anche da un punto di vista diciamo del lavoro una situazione abbastanza solida il tuo anno è nel migliore cioè l'anno del 2023 divisi in due parti la seconda parte è l'anno migliore perché il pianeta Marte si toglie da rompere i coglioni e il tuo pianeta dominante venere rimane in azione diciamo quindi ti porterà dei benefici e il movimento del pianeta Plutone nel senso giocare dei pesci nell'ultimo trimestre è una spinta potente in te negli anni della vita quindi ti porterà delle situazioni positive per quanto riguarda l'amore sarà un anno positivo e fortunato ti divertirai troverai nuovi partner soprattutto intorno al primo trimestre diciamo i nativi del segno della bilancia avranno l'opportunità di godersi diverse situazioni anche piacevoli con il loro partner e quindi le cose vanno per il verso giusto nel frattempo vi ricordo di fare donazioni al canale fate donazioni al canale non fate i tirchi fate donazioni vi costa poco un caffè però è sempre un piacere quindi iniziate a fare donazioni caproni caprone sciampiste catramisti fate donazioni e andiamo avanti fate donazioni iscrivetevi insomma non rompete i coglioni fate donazioni al canale iscrivetevi seguitemi anche su tutti i canali youtube ovviamente che ormai sono dieci e andiamo avanti andiamo avanti allora per quanto riguarda il partner i nativi della vergine della bilancia scusate avranno l'opportunità di godersi di momenti piacevoli quindi va veramente bene da un punto di vista della diciamo delle relazioni sentimentali perché ci saranno le benedizioni diciamo di plutone venere insieme che daranno veramente una spinta molto importante dovete diciamo semplicemente lasciarvi andare eliminare un po' i meccanismi di difesa anche tra l'altro le donne che vanno alla ricerca del matrimonio e dell'ingravidazione avranno buona opportunità di trovare uomini disposti a sposarsene e a ingravidarle quindi care bilance molte bilance verranno ingravidate nel 2023 e quindi ci saranno nuove possibilità i single che stanno le single che stanno aspettando di sposarsi avranno possibilità quindi è positivo insomma 2023 per la bilancia per le questioni finanziarie si tratterà è un anno un po' ballerino per le questioni finanziarie la bilancia è un anno un po' ballerino Marte diventa diretto vedrai crescita e sviluppi economici alti e bassi alti e bassi quindi ci saranno alcune persone che avranno delle pressioni sotto pressioni per prestiti per per cazzate varie e quindi ci saranno un po' di un po' di problemi quindi gli investimenti vanno fatti accuratamente perché altrimenti rischi di prendertelo veramente in quel posto che neanche Rocco si freddi te lo metta freddo diciamo così quindi cerca di risparmiare perché il senso della bilancia è un segno che si sputta nei soldi alla grande cerca di risparmiare perché le cose altrimenti andranno a puttane per quanto riguarda la carriera anche qua diciamo il minimo sindacale viene garantito senza lode senza infamia le cose vanno per il verso giusto il pianeta Giove ti benedirà ti darà comunque grande forze arguzia cerca di sfruttarlo per sviluppare e consolidare un po' la carriera vediamo un attimino invece le affinità di coppia vediamo le affinità di coppia allora se abbiamo il seno della bilancia diciamo con bilancia ariete siamo al 60% bilancia toro 56% bilancia gemelli 94% va già benissimo bilancia cancro siamo sul 70% bilancia leone 94% alla grande bilancia vergine anche qua siamo sul 60% bilancia bilancia 70% bilancia scorpione di merda 30% bilancia sagittario 27% bilancia capricorno 45% più o meno bilancia acquario 32% bilancia pesci siamo sul 79% quindi va abbastanza bene e quindi andiamo avanti passiamo allo scorpione lo scorpione altro segno d'acqua è caratterizzato diciamo dall'essere manipolativo e poi è molto umorale il segno dello scorpione va avanti con antipatie simpatie insomma è vendicativo ingegnoso ne sa una più del diavolo insomma il segno dello scorpione ha questa cosa qua che pensa che facendo sempre le stesse cose posso ottenere risultati diversi questo ovviamente non accade nel 2023 i pianeti ti costringeranno a cambiare le percezioni della vita quindi sarà un anno di grande cambiamento per il segno dello scorpione e i cambiamenti saranno drastici avrai il pianeta giove che ti supporterà quindi ti aiuterà però devi fare le scelte giuste quindi per il segno dello scorpione questi cambiamenti radicali nella vita potranno essere o estremamente positivi se fai le scelte giuste o sarà un anno di merda veramente un anno di merda dove affonderai nella fogna se farai le scelte sbagliate quindi caro segno dello scorpione cerca di fare le scelte giuste o veramente andrai nella merda che più merda non si può per quanto riguarda l'amore diciamo i nativi del segno dello scorpione che hanno appena iniziato una relazione la porteranno a termine andrà abbastanza bene insomma non finirà nel nulla le persone single dovranno fare delle scelte diciamo ci sarà qualche mercurio potrebbe darti qualche gioia qualche soddisfazione devi cercare anche qua di fare le scelte giuste quindi veramente è un anno di scelta per lo scorpione 2023 diciamo che è un anno critico ma potrebbe essere anche estremamente positivo come estremamente negativo per quanto riguarda le finanze l'anno diciamo che non è un anno negativo diciamo quando il pianeta Saturno si sposterà nella tua casa i tuoi piani le tue idee riguardanti le finanze i soldi potrebbero non andare come previsto quindi il primo trimestre richiederà effettivamente un po' una pausa prenderti con calma perché potresti far cagate e poi ci sarà una stabilità diciamo ma soprattutto nella seconda metà ci saranno si vedrà un po' di luce insomma anche da questo punto di vista per quanto riguarda le affinità dello scorpione abbiamo scorpione a rete 70% scorpione toro 94% scorpione gemelli 95% scorpione cancro 90% scorpione leone 75% scorpione vergine 70% scorpione bilancia 80% scorpione scorpione siamo sul 40% perché sono un po' dittatori scorpione sagittario 80% scorpione capricorno 30% quindi di merda scorpione acquario 40% un po' meno di merda ma di merda e scorpione pesci siamo sul 50% quindi più o meno così e così e veniamo al segno del sagittario allora il sagittario segno di fuoco il sagittario segno di fuoco tanto iscrivetevi al canale a tutti i canali attivate la campanella seguitemi su instagram youtube ovviamente tiktok fate donazione al canale non fate i morti di fame le morte di fame non fate catramisti e sciampisti abbonatevi iscrivetevi al canale donate un caffè no? perlomeno morti di fame che non siete altro allora vediamo il segno di fuoco del sagittario allora il segno del sagittario è un segno socievole avventuroso ama viaggiare è un segno fedifere che concubino tende a fare le corna diciamo così ama la natura ama viaggiare ama muoversi è un anno per innamorarsi questo è l'anno dell'amore per quanto riguarda il sagittario è l'anno dell'amore il 2023 ti porterà all'amore anche se poi lo farà andare a puttane perché il capricorno lo farà andare a puttane e in alcuni casi lo farà andare a puttane però è l'anno dell'amore fondamentalmente insomma c'è molta energia di venere nel tuo tema natale ti incoraggerà a stringere legami d'amore nel 2023 e e quindi insomma ci saranno grandi relazioni grandi relazioni per il sagittario nel 2023 ovviamente grandi relazioni e qualche invece situazione che invece potrebbe potrebbe andare a degenerare poi perché quindi per qualcuno qualche segno del sagittario ci saranno grandi frustrazioni grandi sofferenze d'amore perché insomma chi non risica non rosica quindi comunque è tutto centrato sull'amore il sagittario il suggerimento è di prendersi un po' di tempo per le relazioni amorose perché sennò rischi veramente se cadi di farti tanto male per il segno del sagittario che intendono sposarsi questo sarà l'anno buono per il segno del sagittario che intendono per il segno del sagittario che intendono sposarsi questo sarà l'anno buono sarà l'anno fondamentale quindi l'anno fondamentale questo è l'anno buono per potersi sposare per poter trovare delle situazioni se hai intenzione di fare un matrimonio potrebbe essere l'anno giusto vediamo andiamo avanti per quanto riguarda il segno del sagittario allora dalla seconda metà di giugno in poi ci possono essere alcune difficoltà soprattutto da un punto di vista finanziario ci potrebbero essere debiti situazioni di questo genere e quindi devi cercare di fare un po' di attenzione da questo punto di vista spuntare soprattutto anche sulla carriera che prevede anche qua delle buone possibilità quindi l'effetto combinato di venere mercurio e giove indica possibilità forti ad esempio nella carriera di fare salti quantici di avere possibilità di aumenti di stipendio promozioni quindi punta anche lì sulla carriera diciamo che comunque il 2023 possiamo modello un po' come l'anno della realizzazione per il sagittario quindi avrai un forte bisogno di disegnare piani per provare nuove cose nella vita un anno buono diciamo dipende poi da come riuscirai a gestirlo insomma le spese saranno ridotte al minimo quindi i guadagni non saranno eccessivi non è che ci saranno fiumi di soldi che arriveranno però non ci saranno neanche gravi perdite quindi direi che le cose non vanno male vediamo invece le affinità per quanto riguarda le affinità di coppia abbiamo il seno del sagittario con l'arieta al 75% con il toro all'80% con i gemelli all'84% con il cancro all'80% quindi vedete che vanno bene con il leone all'85% meno con la vergine al 32% quindi di merda con la bilancia al 70% con lo scorpione al 58% con il sagittario al 75% con il capricorno sul 50% quindi una via di mezzo con l'acquario all'80% con i pesci al 70% quindi diciamo che l'anno è prontato molto sulle questioni diciamo sentimentali effettive vediamo il segno del capricorno passiamo al segno del capricorno allora il capricorno è un segno di terra un segno molto determinato molto ambizioso ha un carattere forte talvolta può sembrare freddo è un segno che quando vuole raggiungere un obiettivo costi quel che costi lo raggiunge è spesso introverso e comunque ha capacità intelligenza ed è anche un maratoneta una delle caratteristiche del capricorno è la resistenza a lungo termine quindi ha una forte resilienza e la determinazione lo porta ad avere successo insomma ha una marcia in più che alla fine lo fa arrivare prima al traguardo può apparire freddo può apparire un po' determinato e il 2023 sarà un anno tutto sommato positivo ci saranno questioni e problemi da affrontare che però riuscirà a affrontare nel modo migliore insomma il movimento del pianeta Giove benedirà con soprattutto nelle finanze ci sarà da affrontare l'ostacolo invece del pianeta Saturno che romperà i coglioni costantemente quindi dovrai diciamo non solo Giove gioverà diciamo alle tue finanze ma ricostruirà anche alcune delle tue vecchie connessioni e l'impatto di Venere e Plutone diciamo anche qua darà benefici sulla vita personale soprattutto sulla vita sentimentale affettiva per quanto riguarda l'amore ci saranno delle situazioni estremamente positive ci saranno però anche alti e bassi diciamo che alcune persone potrebbero soprattutto le coppie sposate potrebbero affrontare dei disaccordi tra loro invece coppie che hanno iniziato una relazione diciamo potranno consolidare questa relazione e soprattutto nel terzo trimestre del 2023 ci saranno relazioni che tenderanno a consolidarsi e ci saranno anche delle decisioni importanti da prendere e diciamo alcune relazioni anche con alcuni litigi andranno avanti per i single ci sarà presto un partner adatto all'orizzonte perché capricorno è molto difficile da questo punto di vista trovare un partner perché insomma trova sempre dei difetti nelle persone però un partner adatto si presenterà all'orizzonte diciamo alcune donne del capricorno che vorranno mettere su famiglia che vorranno avere dei figli potrebbe essere un anno diciamo positivo per pianificare diciamo una gravidanza per le donne del capricorno e e quindi soprattutto nella seconda metà allora per quanto riguarda le finanze finanziariamente potrebbero capitare grandi cose cerca di fare se sei esperto gli investimenti giusti preparati per situazioni che stanno veramente per andare alla grande ci saranno risultati fruttuosi come immobili eccetera eccetera cose che andranno dei tasselli che andranno per il verso giusto le persone che si occupano di questioni di denaro diciamo potrebbero avere qualche problema intorno alla metà dell'anno però diciamo che per quanto riguarda il denaro in sé ci sarà ricchezza fondamentalmente quindi le cose soprattutto negli investimenti a breve termine a lungo termine andranno andranno bene e le risorse ti avvantaggeranno diciamo in modo significativo fondamentalmente per quanto riguarda la carriera ovviamente sappiamo che i capricorni sono molto centrati sulla carriera pianificano il futuro in anticipo e il loro motto è che il duro lavoro porterà comunque dei risultati e quindi con profitti per il 2023 vediamo un attimino anche per il capricorno l'affinità capricorno ariete siamo sul 40% quindi abbastanza di merda capricorno toro al 70% capricorno gemelli siamo sul 60% capricorno cancro 70% capricorno leone 30% di merda capricorno vergine 94% va molto bene capricorno bilancia siamo sull'80% capricorno scorpione 60% capricorno sagittario 30% di merda capricorno 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 90% capricorno acquario siamo sul 75% capricorno pesci sull'80% e adesso passiamo al segno dell'acquario passiamo al segno dell'acquario vediamo che ci dice il segno dell'acquario allora il segno dell'acquario è un segno d'aria che è realizzato dalla stabilità idealista gira tutto intorno al tuo mondo è costante fermo delle decisioni un segno orgoglioso tende ad essere un po' megalomani in alcuni casi ha spirito di contraddizione talvolta è diciamo tende ad essere un segno un po' come possiamo dire basti al contrario come possiamo dire il 2023 sarà un anno che diciamo dovrai trovare delle soluzioni diciamo che i problemi per il 2023 ci saranno degli ostacoli ma che diventeranno anche forti ma tu potrai trovare le soluzioni quindi potresti affrontare alcune difficoltà finanziarie ma se ti impegni se mantieni il centro riuscirai a trovare delle soluzioni il pianeta Giove ti porterà delle benedizioni e diciamo invece per quanto riguarda le situazioni amorose il pianeta Venera nella prima metà dell'anno ti porterà anche delle cose degli incontri significativi incontri importanti allora per quanto riguarda l'amore per i single diciamo la prima parte dell'anno è quella migliore per trovare un nuovo partner trovare situazioni positive situazioni che ti potranno portare veramente delle situazioni molto importanti e molto importanti e inoltre nelle coppie dell'acquario ci potrà essere una grande sintonia per il 2023 qualche difficoltà poi invece subentrerà nella seconda parte dell'anno potrebbero esserci dei disaccordi tra te e il tuo coniuge potrebbero esserci discussioni litigi ma la prima parte dell'anno invece va molto bene lascia perdere la speranza del matrimonio questo caro acquario a meno che non sia già tutto conclamato difficoltà a sposarsi ci saranno sicuramente per quanto riguarda la finanza devi schiarire un po' le idee ci saranno problemi da affrontare la posto in gioca è alta scuoterà le tue finanze ma potrai risolverla in alcuni modi potrai anche fare grandi investimenti quindi le cose ci saranno anche qualche flusso di denari improvviso quindi porterà alla fine dei benefici dei vantaggi e possono partire anche degli investimenti qualche problemuccio potrebbe accadere nella vita professionale soprattutto per il fatto che non ti piace scendere a compromessi però anche se non scende a compromessi riuscirai devi mantenere diciamo la presa solida per poter andare avanti insomma diciamo che la determinazione ti aiuterà sicuramente ad avere successo e anche chi cerca lavoro a ottenere il lavoro desiderato o cambiare lavoro e trovare veramente qualcosa che possa piacere quindi queste sono un po' le cose dell'acquario vediamo acquario ariete siamo sull'affinità di coppia siamo sull'80% acquario toro 90% acquario gemelli siamo al 60% acquario leone 45% acquario vergine siamo sull'80% acquario bilancia 60% acquario scorpione 55% acquario sagittario va bene 85% acquario capricorno va anche bene siamo sull'78% acquario pesci 70% acquario acquario scusate 70% acquario pesci 48% insomma però l'acquario diciamo che tra una palla e l'altra le cose vanno abbastanza bene poi passiamo al segno dei pesci il segno d'acqua è il segno più sensibile dello zodiaco caratterizzato un po' dall'amore universale un segno altruista sentimentale romantico diciamo si dedica allo spirito allo yoga alla meditazione l'omeopatia insomma ama la tranquillità cerca di aiutare il prossimo quindi come segno va sicuramente bene nel rapporto di coppia spesso tende a essere un po' l'anello più debole talvolta si ritrova a fare l'amante tende a essere un po' dominato e il 2023 è un anno che sarà l'anno per superare le difficoltà che ha avuto negli anni precedenti quindi i pesci avranno un buon inizio un anno fresco che ti porterà diciamo delle giuste possibilità e soprattutto dal punto di vista finanziario quest'anno se uno dei pesci godrà di notevoli risultati favorevoli nel frattempo fai donazione al canale malgasciona carampana che non sei altro fai donazione al canale anche un caffè è sempre gradito quindi fate donazioni ovviamente iscrivetevi a tutti i miei canali youtube che sono 10 ovviamente seguitemi anche su instagram massimo terramasco ufficiale su tiktok allora quindi dal punto di vista finanziario per i pesci ci sono risultati favorevoli si sentiranno prosperi l'afflusso di denaro sarà maggiore rispetto agli anni precedenti e questo per l'azione di saturno saturno che entrerà in azione nella seconda metà del 2023 diciamo ci possono essere anche delle situazioni di vincite o situazioni di questo genere che possono portare diciamo dei benefici degli afflussi di denaro vediamo l'oroscopo dell'amore allora l'amore per i pesci quest'anno dice che le coppie sposate o accoppiate già trascorreranno il tempo l'una per l'altra e quindi andranno a gonfie vele si consolideranno se desideri trovare qualcuno da sposare potrebbe essere l'anno buono per trovare una persona con la quale convolare a giuste nozze se vuoi essere ingravidata anche questo potrebbe essere l'anno buono che la donna dei pesci per essere ingravidata però devi prendere le cose con calma perché ci sono alcune possibilità che invece le cose poi vadano a degenerare diciamo quindi le possibilità ci sono vanno prese con calma se hai invece sei single e hai intenzione di iniziare qualcosa di nuovo la prima metà dell'anno non sarà molto positiva ma la seconda metà dell'anno invece sarà positiva anche per i single che desiderano iniziare una relazione nuova fondamentalmente quindi ci saranno grandi possibilità infine per le persone che hanno a che fare con relazioni tossiche devi tolite dei coglioni da subito dall'inizio dell'anno è il momento buono per tolite dei coglioni le finanze come abbiamo detto saranno positive quindi per i single dei pesci tutto sommato un buon anno ci può essere qualche cambiamento da un punto di vista lavorativo per alcune persone ma cambiamenti sempre visti in ottica positiva cambi di lavoro miglioramenti di lavoro quindi un anno discretamente positivo ci saranno promozioni quindi possibilità di incremento di posizioni diciamo dal punto di vista lavorativo e vediamo anche per finire il seno dei pesci quali sono le affinità di coppia pesce ariete siamo sul 60% pesci toro 85% con i gemelli 70% con il cancro 60% con il leone il 45% con la vergine il 90% con la bilancia il 60% con lo scorpione siamo sul 90% con il sagittario sul 70% con il capricorno 85% con l'acquario siamo al 40% e pesci pesci non va molto bene per essere un 50% ne vedi mezzo però il seno dei pesci ha una buona affinità in generale bene quindi abbiamo fatto questo escursus per il 2023 quindi un saluto a tutti malgascione carampane fate donazioni iscrivetevi a tutti i miei canali e mi raccomando un saluto a tutti buon 2023 e ci vediamo presto quindi un saluto a tutti e a presto bene bene buon 2023 a tutti mi raccomando tenete alta l'asticella dell'autostima ciao a tutti a la prossima